Bella a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926 Quest'oggi signori ricontinuiamo House Flipper e benvenuti nell'episodio 2 Allora, come possiamo vedere abbiamo bloccato la possibilità di pulire Quindi noi ora, sapete cosa facciamo? Ci andiamo a pulire tutta la nostra casina Bene, bene Questo poi volendo, ok, allora Allora, volendo possiamo acquistare case, migliorarle, aggiustarle tutte E poi rivenderle, rivendendole praticamente ci facciamo i soldi E poi se vogliamo possiamo cambiare il nostro ufficio Tanto a noi non ci interessa per ora Qui dice che c'è una ragnatilla ma io non la vedo Andiamo a pulire, vediamo se c'è, ok, si è levata La porta non si può pulire per ora Ok, qui è tutto sporco Come stavo dicendo, possiamo acquistare case e rivenderle In questo modo possiamo incrementare i soldi oppure Li possiamo perdere i soldi, giustamente Perché nulla è sicuro su questo gioco Ok, qui c'è un'altra ragnatilla che io però non vedo Forse è dentro No, ok, l'ha levata Io non l'ho vista, nemmeno è morta Comunque Dietro è tutto pulito Tranne qui Ok, andiamo a sistemare questa casa Questa casa A questo ufficio Perché È un ufficio Quindi, ok Qui c'è un'altra macchia Dove? Qui Io però qui non la vedo Ok, forse più qua Più qua Qua Proviamo a pulire Forse in terra Mamma Scusatemi ragazzi Ma l'ho starnuto Ok, qui è sporco ancora Ma io non capisco a volte Perché A me la mappa non è che sia proprio precisa, precisa, precisa Vabbè, comunque Continuiamo, andiamo in casa Puliamo la casa Che ora quello che ci interessa è pulirla dentro Perché Andate qua Guardate qua lo schifio di questa casa Signore Guardate qua Donne Guardate come si pulisce Donne Il soffitto Cosa c'è combinato su questo soffitto Amico mio Ah no Mamma Ragnatele 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 Dove sono le ragnatele Ok, qui è pulito Ah ok, poi Quando iniziamo a A sbloccare Ossere Possiamo imbiancare le pareti Stuccare i muri Possiamo fare davvero Davvero Tante tante cose In questo giochino Questo specchio è rotto Penso non si possa nemmeno pulire Il soffitto Poi qui dice che c'è un'altra macchia Ok, chiudi Dove sei? Sopra al lavandino dice Ma sopra al lavandino io non Vedo niente? Ok Ma è vicino al lavandino questa macchia? La ragnatele forse Ah, è sporco Mamma mia signorini Scusatemi Era un po' studicio Ok Non vedi a un'ora di livellare Per Ma non si può modificare questo Setting Controlli Sensibilità Sensibilità Mettiamo la Un'ora di livellare Vediamo un po' Oh Ora si signori miei Era lento da morire Continuiamo a pulire Le ragnatele Togliamole Ok Questo poster Non si può togliere Cioè qui dice che c'è una macchia Ah ok Qui su Ok Ok Dentro casa mi sa che è tutto pulito Tranne qui dietro Che c'è una macchia Che io non vedo Ok L'ha rilevata lui E fuori E fuori ragazzi Dice che c'è una macchia Ma io non Fammi vedere qui Darsi che Sia qui Ma non è vero Dove Dove era la macchia Dove Va bene La casa l'abbiamo pulita Rimettiamo la nostra Manina magica Questa sedia Mi dà una noia Storta Dai Su Metti la sedia per bene Questa motosega La mettiamo Qui in bella vista Tac C'è un casino Della madosca Ok Questo va bene Non è che si può migliorare Più di tanto Va bene Ok Andiamo a fare Il secondo lavoro Di oggi Mail Se non sbaglio Nel browser Ecco Vedete Qui ci sono le case Ma noi abbiamo solo 25.000 dollari Addirittura Sullo spazio Addirittura Va bene Mail Signore Allora Cleaning De garage Ok Accettiamo 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 Questo lavoretto Vediamo un po' Cosa dobbiamo fare Allora Vi ricordo Di iscrivervi al canale E di lasciare Un bel tasto Mi piace Questa merda Di lavastoriglia Ha deciso Ora di Scolare Ok Noi dobbiamo Solo pulire Il garage Allora Iniziamo Ok Qui si può Apri Ok Apriamo Il garage Apri Il garage Avengers Signore Dai Mettile fuori Un attimo Queste biciclette Oh Te le metti? Non me le metti fuori? Come mai? Cioè Me le puoi far mettere Solo nel garage? Va bene Iniziamo a buttare Tutta questa roba Queste cazzo Di biciclette Te le faccio sparire Si ha commesso Troppa sensibilità Aspettate Setting Controller Sensibilità Abbassano un pochino A 90 Allora Inverter No Slow motion No Vabbè Ok Continuiamo Eh ora un po' meglio Queste cose che devo fare? Scusami Te le devo mettere a posto? Non ho capito Allora Nuovi punti Abilità Ok Queste qui Non le vuoi buttare Ok Ho capito Queste però Le vuoi buttare Queste le vuoi buttare Mettiamo il punto abilità Ok Ok 25% più veloce Puliamo Mamma mia Signori Siamo delle schegge Questa roba Non la vuoi buttare Signorina Te la vuoi tenere? No La signora Nel garage Ci arriva al mondo Signori miei Ok Questa è tutta roba Da pulire Ok No Non è vero mai Questa roba La deve tenere Questa roba uguale Ok 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 C'è qualcos'altro Ok Un'altra scavola Ok Passiamo Alla pulizia Vedete Vedete Ora come andiamo Più veloce Si fa per dire 25% Meglio di niente Ok In queste biciclette Tanto non deboli Però ragazzi Una cosa non capisco Ho una PS4 Pro E la grafica di questo gioco Fa veramente cagare Eppure è strano Perché su Sul PC Beh naturalmente Il PC Ragazzi Tutta un'altra cosa Mi rende di più Però Boh Simba strano Ok Qua puliamo il tavolo Puliamo il tavolo Ho detto La macchia Ok Teniamo un po' Continuiamo 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 Ok Ora Sembra che sia finito Qui Ho sbagliato tasto Ok Mi sembra che qui Sia tutto pulito Sì Tutto pulito Ok Andiamo a posto Queste biciclette No Sbagliamo Sbagliato Stiamo Ok Mettimele Mettimele qui Una qui E una qui Ok Ok E ora Pugliamo la finestra Mamma mia signora Donne Guardate come si puliscono le finestre Donne Vi lamentate che noi uomini Non facciamo le pulizie? Non è vero Guardate Tac Tac Altro che vetrillo Swiffer E basta questo attrezzino Guardate qui Ok Ok Tutto completato Ok Info 100% Ok Completiamo E il secondo lavoro Abbiamo finito Andiamoci a fare Quest'altro Lavoretto Ok Ok Open Come è possibile Che ci sia un'altra macchia Qui su Ma come mai escono E dice se è in casa Ma io qui però non vedo niente Ah il vetro Il vetro Questo dobbiamo pulire Ah sì I vetri ragazzi Forse no Io non riesco a capire Questo quadro Ok Mettiamolo Bene Devo dire Non riesco a capire Cosa sia Sporco Ah qui sporco Il tavolo Ok Vedete qui possiamo aumentare E diminuire Le cose Ok Andiamo in un'altra pulita Ok Ok Qui è tutto pulito E ora Questa roba è fuori Perché In casa io non c'ho niente Ma io però No è in casa ragazzi Dice che sia in casa Ma io in casa Oh eppure Non riesco a capire Cosa sia sporco Dice qui è sporco Ma non c'è niente Il tappeto Signori forse No Cioè non riesco veramente A capire Cosa è sporco La cucina Ma l'ho pulita Boh Cosa cavolo È sporco Scusami Il soffitto è tutto pulito Boh Dice che c'è una macchia Io macchie Chiudi Chiudi Boh Signori miei Io qui non vedo niente Comunque Andiamo avanti E con Ah qui Comunque Dovremmo mettere un radiatore Vediamo se lo possiamo comprare Store Store 3 Radiator Ok Ok Un radiatore Eccolo qui Installa Perché non me lo metti Perché Perché Dio santo Forse è che c'è il letto Fammi vedere Entra un attimo qui Io Radiator Ok Radiator Ah ecco C'era il letto Assembleamo Ok Mamma signori La Lentezza Finché non li vediamo Di questo gioco Ok Questo Questo E questo Ok Oh New skill point Ok Allora Forse possiamo mettere No no Faster 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 Mountain Vediamo Lì Vediamo Visto Dovrebbe essere Quello per montare Più veloce Dovrebbe Perché Cazzarola Porco Due Come si Lasciava Mamma mia I tasti Signori Abbiamo fatto Un casino E qui Non ci si passa Più Ok Vediamo Se spostiamo Un po' Questo Un pochino Più qua Ok La motosega La motosega Non me la puoi mettere Sulla finestra Penso Sì Eh dai Non ci entra Signore Dai Se la metto così Nemmeno Se è strozzo Allora Che la mettimela Qui Per il momento Questo Lo spostiamo Un'altra volta Ok Ok Questo Lo rimettiamo Al suo posto Ok La motosega La rimettiamo Qui Magari Dall'altro Lato Ecco Che sarà Il terzo E facciamo Un altro Facciamo Un altro Lavoretto Via Dai su Iscriviti al canale E lascia un bel mi piace Ciao Ciao